A quanto pare DeGiro sta facendo di tutto per fare in modo che i clienti italiani lasciano la piattaforma e migrino verso altri broker. Questo è uno dei tanti commenti che ho letto in giro. Ma cosa è successo? Molti di noi che hanno un account con DeGiro hanno ricevuto un'email come quella che vi mostro a breve. Dobbiamo mollare la piattaforma? Te lo dico in questo video. L'email di cui parlo è proprio questa qui che leggo adesso. Al fine di ottimizzare il nostro servizio fiscale in merito ai titoli quotati su Borsa Italiana, per i nostri clienti abbiamo aggiornato la modalità con cui gli ordini su questa borsa vengono inviati attraverso la catena di custodia e regolati a mercato. Purtroppo ciò ha come effetto collaterale l'impossibilità di offrire ETF negoziati su Borsa Italiana. Per evitare un impatto negativo per i nostri clienti trasferiremo le tue posizioni su una borsa alternativa in modo che tu abbia ancora la possibilità di negoziare tali titoli. A partire da oggi gli ISIN interessati non saranno più disponibili per l'apertura di nuove posizioni su Borsa Italiana. A questo link potrai trovare quali ISIN saranno trasferiti su un'altra borsa il giorno 25 settembre 2023. Se non è possibile una quotazione alternativa per l'ETF, ciò significa che noi al momento possiamo solo facilitare la chiusura della tua posizione o agevolare il trasferimento della posizione a un altro broker. Non addebiteremo alcun costo per il trasferimento da Borsa Italiana a una borsa alternativa. Se nel corso del 2023 non hai negoziato su tale borsa, ti verranno rimborsati anche i costi di connettività per l'anno corrente. Il rimborso verrà contabilizzato entro un mese dalla debito dei costi di connettività. Tutti gli altri costi relativi alla migrazione e chiusura delle posizioni saranno rimborsati un mese dopo il trasferimento. Da un certo punto di vista, devo dire, si tratta di una comunicazione molto tempestiva per cui chapeau a de giro. Ma secondo me si potrebbe nascondere un inganno, in particolare su questa sezione dell'email che vi rileggo. Per evitare un impatto negativo per i nostri clienti trasferiremo le tue posizioni su una borsa alternativa in modo che tu abbia ancora la possibilità di negoziare tali titoli. Però se andate a controllare il link che vi hanno legato nell'email, una buona porzione di ETF, anche se non tutti, andranno a essere trasferiti su Tradegate. De giro è stata acquistata da Flatex, banca tedesca, e ha sicuramente dei vantaggi ad andare a lavorare principalmente su Tradegate e in generale sulle borse tedesche. Sostanzialmente questa, la Tradegate, che è connessa con la borsa di Francoforte. Avrà anche dei costi minori per De giro e in fondo, in fondo, per gli investitori questo potrebbe dire anche che ci siano maggiori volumi di scambio, ma c'è un ma, un piccolo conflitto di interesse potrebbe nascondersi in questo. Infatti, nel 2021 De giro dichiarava, De giro had an agreement in place with Tradegate to receive inducement on transaction conducted by De giro clients on Tradegate. In pratica, per tradurre papale papale, per ogni, praticamente ogni transazione che viene effettuata su Tradegate, De giro riceve una piccola commissione che potrebbe appunto paventare un leggerissimo conflitto di interessi e a me questa cosa non mi piace, anche se De giro lo facesse in buona fede, non mi piace come cosa. Inoltre sappiamo che De giro, fra i costi, menziona anche il costo di connessione alle varie borse e questo cosa potrebbe voler significare? Che se ad esempio noi avessimo 4 ETF che sono in questo momento quotati su borse italiane, che magari vengono spostati su 4 borse diverse, per cui su altre tante borse, ci ritroveremmo a pagare costi di connessione per 4 borse, non più solo per una. Anzi, per noi che eravamo italiani, borse italiane era sostanzialmente gratuita e questa cosa mi piace ancora meno. Sembra quasi quasi che sotto sotto, De giro, per fatturare di più, voglia dirottare molto volume su altre borse, ma ovviamente potrei sbagliarmi e questo lo vedremo solo con il passare del tempo, quando effettivamente tutti i trasferimenti, tutti i passaggi saranno avvenuti e per cui il volume delle transazioni sulle varie borse sarà visibile. A questo, come menzionato, si aggiungono anche i costi di connessione. Ma cosa va a succedere per noi investitori retail in sintesi? Beh, ci sono tre soluzioni particolari. La prima è che l'ETF viene scambiato su un'altra borsa, che non sia appunto quella italiana, e per cui che venga effettivamente trasferito su un altro exchange, Tradegate per esempio. La seconda è che invece non ci siano alternative per cui le posizioni vengono liquidate e sarà poi a noi investitori decidere cosa fare della liquidità che sia andata a generale da questa chiusura e su quale strumento magari alternativo vogliamo andare a investire. Ovviamente questo ci spone anche a un eventuale capital gain o una perdita sul nostro investimento. La terza è che noi andiamo a chiedere il trasferimento delle posizioni a un altro broker con le tempistiche e i costi annessi a tale operazione. Non essendo il trasferimento fra istituti bancari italiani, per il quale ovviamente tutti sappiamo costi zero e tempistiche molto veloci, in questo caso si potrebbe andare incontro a tempistiche e costi totalmente diversi. Non so, è una situazione che dopo le varie problematiche che si sono verificate in passato sui report fiscali non giusti mi stanno un po' facendo perdere la fiducia in DeGiro, piattaforma che in ogni caso avevo lasciato come investimento qualche anno fa ma non per motivi DeGiro, per motivi miei e non per una problematica del servizio offerto che comunque ritengo ancora di altissimo livello. Voi cosa ne pensate? Me lo fate sapere nei commenti qui sotto e che cosa soprattutto avete intenzione di fare adesso? Ricordiamoci che questi non sono consigli a investire o non investire o anzi in questo caso a disinvestire o non disinvestire ma solo spunti per scopo didattico e in questo caso informativo e di approfondimento. In ogni caso se questo contenuto ha portato un valore aggiuntivo alla tua conoscenza, fammi capire il tuo gradimento con un bel pollice in su. Se invece mi hai appena conosciuto potrebbe essere una buona, anzi un'ottima idea, cominciare a fare parte di questa community con una maggiore presenza, la tua, e iscrivendoti al canale e cliccando la campanella delle notifiche. Al prossimo video, ciao! Al prossimo video, ciao!